97 km orari a San Michele, ben 101 a Cimagrappa, vento da record ieri nel Bassanese, spazzato da raffiche intense per buona parte del pomeriggio e della serata. Un fenomeno che gli esperti identificano come vento di fendi caduta dalle pre-alpi. Diversi e immancabili danni provocati nel territorio, oltre a rami e vasi caduti dalle terrazze, a Bassano e in via Macello un albero abbattuto un palo dell'Enel, scoprendo i fini dell'alta tensione, messi poi in sicurezza dei tecnici comunali intervenuti assieme ai vigili del fuoco. Anche in zona Santissima Trinità, rami spezzati e segnali stradali piegati. A Marostica, piazza degli Scacchi è stata transennata per timore che cadesse il grande albero di Natale, impedito anche l'accesso ai cittadini nell'area del mercatino. L'ambiente natalizia è stato invece abbattuto a povero, una violenta raffica, e sempre a povero, disagi anche in via Adige, dove oggi sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza un comignolo. Sulla nuova Casparone il vento ha diventato parte della recensione del cantiere della superstrada Pedemontana Veneta, mentre a Crespano, in vicolo 4 novembre, un albero precipitando è finito sul tetto di un'abitazione. Fortunatamente nessun danno a persone.